Benvenuti a DGN, in primo piano una notizia di cronico, da San Posterlego 24 sera alla casalita Teresa, accortaci che il mio marito Propezio H, la traduzione con una certa amica Veronica F, lo accogliava a lui e lo sono un po' fucine, però la mia altrucine può scoppiare Teresa, ti prego, io non sono un centomile qua, ma se tocchi quel fucine può sparare E' stata un'oppolia, l'ho incontrata a me la mia, disse, vieni a casa mia, cosa mai potevo Un bacio a domandanti, devo scusare il fucine, e l'abbiamo, ma mi ha trovato, pensa un po' Sembra di te, scusi, faccio, Teresa, ti prego, io non scherzare qua, un cibo, ma così non è gentile, ma lascia andare, lascia andare Un bacio a domandanti, devo scusare il fucine, ma così non Un bacio a domandanti, devo scusare il fucine, ma così non Un bacio a domandanti, devo scusare il fucine, ma così non Un bacio a domandanti, devo scusare il fucine, ma così non Un bacio a domandanti, devo scusare il fucine, ma così non Un bacio a domandanti, devo scusare il fucine, ma così non Un bacio a domandanti, devo scusare il fucine, ma così non